Buongiorno, buongiorno, buon caffè. Spesso il punto importante non è avere la risposta giusta, ma soprattutto fare la domanda giusta, perché la risposta giusta a una domanda sbagliata non mi dà niente. E se la difficoltà è fare le domande giuste, dobbiamo chiederci che cosa rende giusta una domanda, che cosa aiuta a fare la domanda che abbia più senso, più impatto, che ci permetta di uscirne migliorate, uscirne avendo compreso qualcosa di più. Perché possiamo appunto non possedere noi tutte le risposte, ma trovare la forza per andare a cercarle, ponendo la domanda che ha la grinta, che graffia, che sa fare la differenza. Ricordo un bellissimo libro di qualche anno fa, e devo dire di tanti anni fa, che lavorava proprio su questo tema, si intitolava La domanda dietro la domanda, di John Miller, edizione Corbaccio, mi ricordo, non credo che sia più a disposizione, che invitava a fare una domanda che permettesse di ragionare, una domanda che non fosse centrata su un'autoreferenzialità. Cioè tendenzialmente voleva dire, non chiedersi, ma perché è capitato a me? Ma perché proprio a me succede questo? Ma perché lui si comporta così? Ma perché gli altri ce l'hanno tutti con me? Che sono domande prive di significato, ma piuttosto porsi delle domande che vanno a scavare sul cosa posso fare per migliorare, come miglioro la situazione, che cos'è la causa di tutto questo, in che modo posso considerare le conseguenze di quello che sto facendo. A mio parere infatti troppo spesso dimentichiamo di farci le domande giuste, dimentichiamo di cercare di ragionare sulle cause. Il metodo Toyota usa il 5 perché per andare a scoprire quali sono le cause di quello che si è verificato. La TOC utilizza Teal of Constraint di Goldratt, utilizza gli alberi per ragionare e comprendere quali sono le cause. Oppure ragioniamo un poco sugli effetti di quello che stiamo facendo, non ci facciamo domande su cosa può capitare a valle. E se ci perdiamo questi due passaggi, alla fine vuol dire che non abbiamo niente in mano, non abbiamo delle risposte che siano veramente capaci di dare del significato, di farci fare dei passi avanti. L'importante è la domanda e questo vale per tutto, attenzione, vale per il lavoro, fare le giuste domande al cliente è quello che fa la differenza, è quello che permette di essere capaci di differenziarsi rispetto agli altri. Fare le domande ai colleghi, al capo, fare le domande in famiglia, fare le domande sulla propria vita, fare le domande nella scuola, sono tutti ambiti nel quale la domanda giusta e quello che sa dare la differenza. E allora per chiudere questa splendida giornata con questo splendido cielo, non mi resta che chiedere a voi quali sono le domande che fanno la differenza, quali sono le domande che nella vostra esperienza sono capaci di darvi veramente qualcosa di più. Aiutateci a trovare la domanda giusta. A questo punto non mi resta che salutarvi e augurarvi buon caffè, darvi appuntamento qui domani per un altro caffè e invitarvi a venirmi a trovare su polopuni.it Grazie. 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 Grazie.